Raggiungeremo solo saleremo i fondi per produrre materiale audiovisivo e organizzare altre iniziative di questo tipo. Contributo ovviamente libero, non importa quanto ognuno di noi può dare. Conta al tentativo di fare qualcosa, anche attraverso un piccolo aiuto, per provare a far vincere la pace. Un vincitore è semplicemente un sognatore che non si è mai arreso. Nessun ballerano, se l'abbiamo arreso, non facciamolo neanche noi. Grazie. Dov'è? Grazie.